In un'isola come la nostra, molto spesso l'esposizione ha dei venti particolarmente forti, può rischiare di far provocare degli incidenti per i mezzi marittimi in transito. Stava per accadere, fortunatamente non è stato così, questa mattina nel porto di Ischia. Comandante, che cosa è successo? Sia ieri sera che questa mattina abbiamo avuto delle unità che hanno avuto qualche difficoltà durante le manovre di ormeggio e disormeggio nel porto. Causa il vento che in queste ultime ore ha ispirato in maniera abbastanza forte sull'isola e quindi abbiamo dovuto lavorare insieme agli ormeggiatori e agli stessi comandanti e agli uomini marittimi di queste unità per evitare situazioni peggiori. Che cosa si potrebbe fare comandante, semmai con infrastrutture particolari o non so cosa, per cercare di arginare questi fenomeni che non so fino a che punto poi potrebbero essere prevedibili, studiando le carte? Prevedibile in queste condizioni, chiaramente le condi meteo erano in qualche modo previste, era previsto già nella serata di ieri un vento abbastanza forte, da nord principalmente. E quindi quello che è successo è legato a, insomma sono fenomeni che per chi va per mare possiamo darli quasi come ordinari, quindi non è strettamente legato agli aspetti infrastrutturali. Quindi sono due eventi che, ripeto, sono stati gestiti grazie agli ormeggiatori, grazie ai comandanti che pur nella difficoltà della manovra sono riusciti ad evitare qualunque tipo di collisione e a gestire appunto e a fare in modo che tutto rientrasse nell'ordinario. E' chiaro che le infrastrutture portuali ritengono, come ho già detto più volte, richiedono un'importante manutenzione e su questo noi da tempo stiamo chiedendo agli organi regionali di intervenire in maniera un pochino più decisa sul porto di Ischia, sui porti di Ischia, quindi per fare in modo che ci possono essere delle infrastrutture migliori che consentano un maggior livello di sicurezza dei trasporti marittimi. Grazie.